Ai telespettatori di Rete Veneta e ai cittadini, agli amanti dell'arte e della cultura, apriamo col consigliere Cataneo questo edificio e lo mostriamo come uno dei più bei gioielli che la città di Vicenza ha. Così, esattamente un anno fa, ci veniva aperto il sipario su questo gioiello architettonico che appartiene alla storia di Vicenza, l'Oratorio dei Boccalotti, un edificio che risale al 1414. Qui non è una chiesa, è un luogo religioso, ma è anche il luogo di incontro dei soci della Fraglia. A distanza di un anno però, purtroppo, l'Oratorio dei Boccalotti è ancora chiuso, transennato, avviato verso un pericoloso degrado dovuto ai limiti di bilancio dell'IPAB, proprietaria dell'oratorio, che non può mettere a bilancio le ingenti spese per il restauro. Diversi gli interventi urgenti, a cominciare dal rifacimento del tetto, dove l'acqua ha già iniziato ad intaccare il prezioso soffitto a cassettoni. Servirebbero almeno 150 mila euro, per questo noi di Rete Veneta eravamo andati a bussare la porta del sindaco di Vicenza, che si era impegnato solennemente. L'IPAB, che avendo magari qualche sofferenza economica, potrebbe traslare temporaneamente per una lunga durata la proprietà al comune, perché poi se ne fa carico per la ristrutturazione. Questa è un'idea che potremmo portare, su questo c'è un impegno personale, al presidente di IPAB, Ermanno Angonese, con il quale appunto possiamo intavolare una discussione. Avete sentito, una soluzione c'è, un comodato con l'IPAB, che cede l'uso del boccalotti al comune, che a sua volta si fa carico economicamente della ristrutturazione. Oggi portiamo questa proposta al presidente di IPAB, Ermanno Angonese. Cosa ne dice? Si può fare? Prima ancora di rucco, mi corre l'obbligo di ringraziare Rete Veneta. Scoprire che oggi il nostro sindaco si è dichiarato favorevole a creare un rapporto con l'ente che io presiedo, finalizzato al restauro, al recupero e soprattutto a mettere nella disponibilità dei vicentini questa opera d'arte meravigliosa, mi rende felice e orgoglioso. Per cui accolgo con grande favore e mi rendo disponibilissimo subito a un incontro con la nostra città, rappresentata dal sindaco, per sottoscrivere una convenzione, una concessione. Bene, come avete sentito, anche il presidente di IPAB, che ringraziamo, è disponibile a fare la sua parte per restituire il boccalotti alla città, ai vicentini, ai turisti. E allora noi aspettiamo questo incontro col sindaco per siglare l'accordo. Lo chiamiamo e magari con la presenza di Rete Veneta possiamo siglare una convenzione o un rapporto di collaborazione che superi i tanti vincoli burocratici che purtroppo ci sono, ma si rivolga alla finalità vera che è il recupero di questo bene.